Il progressivo disinteresse del pubblico verso il peplum spinge i produttori cinematografici a puntare su altri generi, come ad esempio il western all'italiana. Il 1965 è l'ultimo anno in cui vengono realizzati dei peplum con attori bodybuilder. Il film che rappresenta, diciamo così, la pietra tombale del peplum non viene girato in Italia, ma negli Stati Uniti, nel 1969 e più precisamente a New York. Si tratta di Ercole a New York con un giovanissimo Arnold Schwarzenegger, che all'epoca aveva soltanto 22 anni. Nel film un Ercole molto annoiato di stare nell'Olimpo chiede insistentemente al padre Zeus il permesso di scendere sulla terra, permesso che non gli viene accordato finché praticamente Ercole offende il padre e Zeus gli tira addosso una saetta scagliandolo così nell'oceano. A questo punto Ercole viene prelevato da una nave di passaggio che è diretta a New York e si trova così immerso in un mondo moderno che lui non conosce. Il film in effetti è una commedia senza troppe pretese e si basa principalmente su alcuni equivoci tra l'Ercole, diciamo, mitologico e il mondo moderno e su alcune perifezie che praticamente Ercole deve affrontare nella città. Il film si prende anche gioco del peplum, inteso come genere cinematografico, quando Ercole, interpretato appunto da Schwarzenegger, passa davanti a un cinema di New York e vede una locandina di un film che si chiama Hercules Against the Monster e, rivolto alla sua ragazza che è di fianco a lui, gli dice Ma quel tizio lì non mi assomiglia nemmeno. Dopodiché si toglie il maglione in mezzo alla strada e si mette a posare, fa una posa di dorsali seguita da una posa di doppio bicipite, con la ragazza che gli urla di coprirsi. In realtà non esiste nessun film chiamato Hercules Against the Monster, proprio perché il film Ercole in New York è stato girato nel 69 e l'ultimo peplum prodotto in Italia è stato girato nel 65, quindi era difficile che ci fosse proiettato in un cinema di New York un film peplum nel 69. Dopo Ercole in New York non verrà più prodotto nessun peplum per diverso tempo. Ci sarà soltanto un'eccezione, un film del 1974 intitolato La rivolta delle gradiatrici, diretto da Joe D'Amato. È un film peplum non convenzionale, in cui le protagoniste sono quattro donne, tra cui Margaret Markov e Pan Greer. C'è anche un bodybuilder in questo film ed è un ottimo Pietro Torrisi, che però recita in una parte secondaria. Il peplum verrà riportato in vita nel 1981 grazie all'attore che aveva recitato nell'ultimo peplum, diciamo così convenzionale, cioè lo stesso Arnold Schwarzenegger, ma si tratterà di un peplum completamente diverso da quello degli anni Sessanta. Grazie. 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 Grazie.